Massimo Bitonci, che tipo di disegno di legge ha presentato in Senato? In linea con quello che è successo anche in Svizzera, nel canton Ticino, dove hanno vietato, quindi con un voto popolare, che il burka possa essere utilizzato in luoghi pubblici. In realtà già la normativa sulla pubblica sicurezza in Italia vieta di coprirsi il volto, mettersi i caschi, però questa viene infranta e molte volte anche le interpretazioni dei giudici non sono mai dalla parte delle forze dell'ordine, ma dalla parte purtroppo di chi usa questi metodi. Noi presentiamo questo disegno di legge perché venga una volta per tutte chiarito che nei luoghi pubblici non ci si può coprire il volto e non si possono utilizzare questi veli che mascherano poi il viso. È una questione legata alla sicurezza. Noi sinceramente anche in passato siamo andati anche più in là, perché abbiamo vivuto casi a volte anche ridicoli sul fatto che in piscina vengono utilizzati i burkini. I burkini sono dei costumi interi che coprono testa e corpo. Insomma se si viene in un paese come il nostro bisogna cercare di integrarsi e penso che questo non sia assolutamente il sistema, quello di coprirsi la testa e il volto e di non farsi vedere. È una soluzione che va anche dalla parte delle donne perché in moltissimi di questi casi le donne oltre a essere obbligate a tenere il velo sulla faccia molte volte restano anche proprio chiuse e segregate nelle case.